Lo sport deve veicolare messaggi positivi, noi stiamo facendo la nostra parte. I miei calciatori lavorano a casa e mi mandano i video del programma di allenamento. Pippo Romano, allenatore del canichetti calcio squadra che milita nel campionato di eccellenza Sicilia nel girone A ed è attuale vice capolista del torneo alle spalle del Dattilo a meno 6 punti, è un convinto sostenitore della tesi che si debba stare a casa ed evitare contatti per non diffondere il contagio virale. Lo stop è stato sicuramente fatto in maniera giusta, dice l'ex bandiera delicata di Serie B, anzi il campionato andava stoppato anche una settimana prima, anche se io non sono nessuno per decidere e non ho nessuna competenza in materia, ma è solo una mia opinione personale. È giusto che i campionati si siano fermati per garantire l'incolumità dei calciatori e la salute di tutti. Non so cosa accadrà in futuro, se si riprenderà o meno, aggiungere Romano, ci saranno gli organi competenti che decideranno. Se è giusto riprendere o no, tutto avviene in considerazione di quella che è la possibilità di avere la certezza di stare bene e di non avere problemi e ripercussioni per la salute. I calciatori sono a casa, ma Romano spiega, è chiaro che siamo in contatto. La società ha giustamente sospeso gli allenamenti, in osservanza del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. I ragazzi stanno seguendo dei lavori personali a casa, anche se è difficile dare loro dei carichi di lavoro e farli seguire. Non è assolutamente semplice. I ragazzi però mi mandano i video e mi rendo conto di quello che stanno facendo e come si preparano. Io spero che tutto si risolva nel migliore dei modi e nel breve periodo possibile, anche se ho i miei dubbi. Il problema non è di poco conto. Si tratta di un caso molto grave che sta attaccando tutto il mondo e la speranza è di poterne uscire al più presto per continuare a fare quello che facevamo prima, meglio di prima. Adesso è però il momento di starcene a casa, per la nostra salute e per quella delle nostre famiglie, conclude il tecnico del canicetti calcio. Intanto ieri alle 15, ora in cui solitamente scatta il fischio dell'arbitro che dà inizio alle gare, la società biancorossa del Presidente Angelo Licata ha diffuso una nota. In questi frangenti saremmo dovuti scendere in campo e voi con noi sugli spalti ci avreste aiutato a ottenere la vittoria. Questo virus, spiega la dirigenza biancorossa, ci tiene distanti ma nonostante ciò siamo e rimarremo uniti. A tutti noi manca il calcio, manca il campo, mancano gli allenamenti di gruppo, le domeniche, ma soprattutto voi, rivolto ai tifosi, che con il vostro sostegno ci fate innamorare sempre di più di questo gioco. Questa pandemia terminerà e noi con voi torneremo a sognare dentro il campo.